In attesa della decisione del Collegio di Garanzia del CONI di domani, il Teramo deve soprattutto pensare a quelle che sono le problematiche logistiche e pratiche. Innanzitutto c'è una società decapitata, senza una carica presidenziale. Il problema sarà risolto a brevissimo con la presidenza onoraria che andrà ad Ercole Cimini, attualmente vicepresidente, ed è stato proprio lui a firmare il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI. Un segnale è questo che i due cugini non molleranno di un millimetro. Cimini e Campitelli, e Campitelli e Cimini. È sempre stato così nella vita professionale e lo sarà ancora nel calcio. Cimini però non avrà il potere di firma, che andrà nelle mani di un amministratore delegato o unico che sia. Sarà annunciato sabato e sarà un importante imprenditore che presenta ampie garanzie di serietà e di attaccamento alla società. Insomma, Campitelli potrebbe utilizzare la mossa per coinvolgere altre persone nella gestione del Teramo. C'è soprattutto da sciogliere il nodo che riguarda il direttore sportivo. Attualmente a fare le veci di Marcello Di Giuseppe e Morris Molinari, ma l'ex giocatore del Teramo non avrebbe i titoli per ricoprire il ruolo, vale a dire non sarebbe nell'elenco dei direttori sportivi. Ne arriverà un altro? Potrebbe essere così, ma la figura di Gianluca Scacchioli sarebbe determinante. A caldo, subito dopo l'esplosione della vicenda, Campitelli ha contattato di nuovo Massimo Cerri, ex capitano storico del Teramo e molto legato alla città e alla tifoseria. Cerri aveva da poco però raggiunto l'accordo con il Piacenza, dove ricopre il ruolo di direttore sportivo. Ma il dubbio da chiarire al più presto resta quello dell'allenatore. Vincenzo Vivarini per tutti resta alla guida del Teramo, ma quanto detto ieri, qualche dubbio lo ha insinuato. Ma che devi dire? C'è solo grande tristezza, grande delusione, c'è poco da dire. Vivarini resta a Teramo, sì. Ma vediamo, dai. D'altra parte, l'allenatore di Ari in questa vicenda è una delle parti lese e bisognerà vedere quanta fiducia ha ancora nel Teramo. Le risposte definitive ci saranno comunque sabato, quelle del campo dovranno aspettare ancora una settimana.